Un sostegno ai pubblici esercizi arriva dal Comune di Rimini che li ha esentanti al pagamento del canone unico fino al 31 dicembre, mentre è previsto un taglio del 50% per i canoni di alcune tipologie di occupazione del suolo pubblico, come ambulanti, negozi oppure alberbi. La novità è contenuta nella proposta di modifica al regolamento presentata, la prima commissione consigliare si aggirà dunque sul canone unico, entrato in vigore nel 2021 in sostituzione di TOSAP-COSAP imposta comunale sulla pubblicità attraverso due misure principali. Un'operazione che interesserà quasi 600 tra pubblici esercizi e negozi di Rimini a cui si aggiungono altrettanti ambulanti oltre a qualche decina di albergatori che utilizzano le aree pubbliche per i parcheggi. Si tratta di una platea di oltre 1.300 soggetti, sempre attraverso questa operazione si prorogherà il termine per il pagamento del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione del canone mercatale al 31 ottobre 2021. Quella che è stata discussa in commissione è la prima consistente azione di una manovra straordinaria che vedrà il comune di Rimini investire sulla ripartenza del proprio tessuto di piccole e medie imprese duramente colpite da una crisi iniziata ormai un anno fa, ha commentato l'assessore al bilancio del comune di Rimini Gianluca Brasini. Con questo primo atto dice, a cui ne seguiranno altri che stiamo mettendo a punto, interveniamo sull'ex COSAB attraverso un'esenzione per i pubblici esercizi che va ad integrarsi col progetto Rimini Open Space.